Allora Alessandro Vignali, senti, perentorio 3-0, quello che avete rifilato a San Marino, giusto? Sì. Al Titan Service San Marino, ce lo vuoi raccontare? Sì, è stato un 3-0 netto, una bella prova di gruppo, sapevamo che loro come noi sono una squadra che è in questa Serie B per la prima volta e quindi ce la siamo giocati armi pari, però abbiamo tirato fuori qualcosa in più nei momenti decisivi del set e come ho detto è una prova corale perché tutti e 12 hanno dato il loro contributo, chi è entrato dalla panchina ha fatto bene e quindi non possiamo altro che essere soddisfatti di questi tre punti preziosi che abbiamo portato a casa. E ora vi tocca un viaggio un po' lunghetto, andate in Umbria, niente un po' di meno perché vi ospiterà nel prossimo turno il Giopitalia Città di Castello, sapete qualcosa riguardo di questa squadra? Sì, allora ci aspetta questa bella trasferta sabato alle 9, però sì, la squadra la stiamo studiando con il video, sappiamo che è una squadra giovane, che anche loro lottano per la salvezza nella categoria, però noi siamo ben fiduciosi del lavoro che stiamo facendo, di questi punti che abbiamo raccolto in queste prime tre gare siamo centro classifica, ovviamente è ancora presto per parlare di classifica, però se non li avessimo avuti sarebbe stato peggio quindi andiamo là con tutte le buone intenzioni di fare del nostro meglio e di cercare di portare a casa più punti possibili. Per noi ogni volta sarà una finale contro ogni squadra, quindi tutto ciò che di buono viene noi lo prendiamo volentieri.